musica 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 eeeh marimaldi namaste jumbo amici ciao amici sono bravo cos'è che piace lo zoom? cioè guardate ragazzi ho creato un qualcosa di magico bellissimo la nuova postazione doppia videocamera guardo qui guardo qui guardo qui guardo qui guardo qui no io Andre si zoomava con queste qua comunque oggi voglio fare una roba un po' particolare è che è un po' di tempo che voglio fare ma aspettavo diversi materiali intendo il tavolo vorrei farvi sapere che l'ho comprato per fare questo video e poi ne approfitterò appunto cosa? di niente ho sentito ah grazie Andre e Sasha non l'avete montato ne approfitterò appunto per fare le altre challenge perché mi piace molto la mia camera con questa ambientazione bellissima cosa andiamo a fare oggi oggi andiamo ad abbellire una giacca dovete sapere cioè voi in realtà ne vedete due però io ne abbellisco una sola poi scoprirete l'altra perché dovete sapere che quando ho fatto il video con Sofì mi sono innamorata di questa giacca qua oversize larga solo che non c'era la mia taglia cioè c'era la non la mia taglia io porto una S e questa è una L perché a me piacciono le stive un po' così larghe che poi stanno sulla mia maglia di Tone Squad e ovviamente di Space Jam Pam 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 Are you ready for this? E allora cosa ho fatto? visto che dal mio manichino non potevano darmi la lav어 ordinata online è arrivata la mia giacca io le compro sempre da Bershka che non è uno sponsorizzato ma perché io le giacche le compro lì e ho un sacco di cose perché mi piacciono E oggi andiamo a decorarla In che senso decorarla? Ho comprato su Amazon un po' di toppe Sapete cosa sono le toppe? Le toppe sono quelle che praticamente col ferro da stiro le vai ad appiccicare sopra la giacca Ne ho comprate veramente tantissime, ora ve le faccio vedere Quindi creiamo una fantasia e andiamo a scegliere quelle che più ci piacciono Ho preso sia i disegni che le lettere Ecco qua le lettere Di due color diversi e poi ho la mia toppa che avevo presa in Giappone due anni fa Che non sapevo mi sarebbe tornata utile perché Se vi ricordate nella mia giacca di jeans ho quella del Malawi Adesso arriverà anche quella del Kenya di toppa ma avevo preso questa per sapere Allora qua c'è un ferro da stiro pocket che ho comprato e dopo andremo ad utilizzare Adesso guardiamo le meraviglie che ho preso Lettere, 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 lettere Poi ho comprato due set di toppe miste come per esempio Cactus dell'amore Qua sono bogliocchi, le ciliegie, un po' estive Il teschio Pou! Così andrei Pou! La palma, il cuore, cioè no raga sono bellissime La bocca, la mongolfi Il resto ve li giro un po' e guardo anche le altre Qua facciamo timelapse E guardate qui che cos'ho Per sapere che io amo i mini pony e quindi ho comprato anche le toppe dei mini pony Oh quanto sono belle Poi ho preso le stelline Un po' di stelle colorate In realtà avevo preso anche i cuori ma li ho persi Eccoli Altre toppe con sempre disegni, corona, altre ciliegie Teddy Un cuore Vabbè guardate un altro timelapse Non ce n'erano abbastanza di lingue Oh toccano Andre È di velluto Cuccinella C'è l'impronta Il Salem E poi le lettere che vi avevo detto Queste che sono molto di campus E quelle colorate Perché? Perché dietro vorrei scrivere La Sabri mi ama Il mio hashtag di Instagram Ed essendoci una lettera per pacchetto La Sabri mi ama Ho dovuto comprarne quattro E vabbè No, no Beh la W potrebbe essere anche una M Ma stai citando così? Però abbiamo La Sabri La Sabri ce l'abbiamo Mi mancano le A Vanno sempre a rubare le A Sì Ma anche voi mettetele nei pacchetti più A È la lettera più usata Ok ce l'abbiamo Andre riesce a farlo vedere? Anzi te lo giro Più o meno La Sabri mi ama Non so perché ci sono una O Una Q Allora quindi adesso andiamo a mettere la giacca come base A metterla scritta E poi a scegliere che cosa mettere attorno Quindi spostiamole qua Allora questa è la mia giacca Io per ora la personalizzo dietro E poi vediamo cosa metterci davanti Andre aiutami perché scrivere al contrario è difficilissimo La Lasagna La S Eh non la trovo Quella fatta tipo 5 ma dalla parte opposta Allora Stai creando qualcosa Aspetta la La gioco dell'impicca La indovino con 5 La Sa Lamella Smet No La Sabri Mi La Sabra underscore Quella è La Sabra underscore Smettila Tira su quella i Mi ama Cioè ma così già quanto è bella È bellissima E poi adesso Prendiamo le nostre toppe Io ci metterei qualche toppa Sì Allora cominciamo dai mini pony Che mi piacciono un sacco Giacca rosa Forse eviterei quelli rosa Tipo metterei Quello azzurro Sì Beh forse l'ho messo io Azzurro E arancio Qua Forse devo metterli qua Non lo so Se si attaccano bene anche sulle righe Ecco qua in mezzo Perfetto Questi li lasciamo qua E poi Sbizzarriamoci Allora Dimmi cosa ti piace La stella verde Che richiamo Sasha Hai ragione Le stelle che richiamano Sasha Metterei una stella verde Non c'è anche rosa Che le mettiamo una rosa E una verde Ma rosa su rosa Sì Per Sasha Sì No Ma io sono rosa Ma c'è la giacca Ok rosa così va bene Rosa così è andata Ok rosa così È salmone Il cactus Mi piaceva di più l'altro Tipo questo qua Ok Poi c'era un arcobaleno bellissimo Un pov non ce lo vuoi mettere Un pov certo lo vedi Mazza Come fanno a vederlo È enorme Ah io vedevo questo Poi andrà l'arcobaleno Mi piace come tu fai domande Ma ti dai le risposte da solo Forse però è più bella Una stella argento Potremmo mettere Sai che cosa Una stella argento Scommetto Sì C'è un arcobaleno più bello Andre La palma Fondamentale per me La corona Perché io sono una principessa Qua Mi manca l'altro Arcobaleno con le nuvole Eccolo Un po' di Giulia Penna Anche Ah Ah sta che sponsorizzato Esatto E poi Io inizierei ad attaccare questi In maniera tale Che poi vedendo come sono attaccati Possiamo andare avanti Scegli ne uno Andre Se non si attaccano Posso iniziare a ridere poi No Scommetto che tu vuoi Chalem 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 Vediamo come funziona il ferro da stiro Perché sapete io non sono abilissima Con i ferri da stiro Mi ho comprato uno portatile Che puoi portare anche in vacanza Immagino che qui dobbiamo mettere L'acqua Però prima o se Ashtag lo sponsorizzato Dobbiamo mettere male braccia Perché oggi ho fatto ginnastica Tra l'altro raga Non potete immaginare Sapete chi è il mio personal trainer Caso vuole che sia Il papà di Cristo Per di mio nipote Io non lo sapevo che lavorava in quella palestra Anche strumento di precisione Sì Mamma mia Non ho ancora fatto il danno Non starnutisce guarda No Non ti riconosco più Ma non funziona così Eh oh Ma non dovrebbe essere acqua distillata Poi ora che ci penso L'hai distillata Tu quella Non capisco Tu non sai come se Si è acceso Ma veramente Si ha fatto sling Appoggiamolo così Allora quindi Dobbiamo posizionare bene le lettere Andre sei tu la Diciamo il capo Perché io non vedo Sto facendo tutto al contrario Ho paura di sbagliare Dopo tutto questo casino Anche perché le toppe In realtà per quello che è una compatibilità Costicchiano Allora il ferro dovrebbe Essere caldo Qua è bollente Ho pensato Di mettere I mates qua Ma che ferro quando è caldo Si Perché io volevo mettere sulla manica Però forse È carino Se io facessi Una cosa Così Un po' più di colore Verde di qua Giallo Rosso blu Guardate che bello Metto anche i mates Ci starebbe anche la mia rosa E scusa Odi i panda Perché i panda Ah Jaden Cacchio C'è la viola La mettiamo la rosa Che potrei essere Io e Jaden Ecco qua Cosa Tu sei Jaden Io sono Jaden Non volevo dirvelo Detage de Jaden Detage de Jaden Proviamo Andre Ma io sto aspettando solo sto momento Da una vita Sto perdendo acqua Cominciamo dalla I Stai sudando? Ragazzi Un sacco Leviamo tutto Leviamo questi Vado eh Ok per ora non si sta attaccando È che non ho letto le istruzioni Vabbè è troppo difficile leggere le istruzioni Non è che sono adesivi? No Raga si è attaccato È un po' bagnata Perché adesso sto perdendo acqua Ok Sabri Andiamo con la R Andre Un boccalupo Abbiamo la scritta Ora andiamo con le stelle Mates Gialla Rossa Blu Il rosa dove sta meglio? Forse il rosa sta meglio di qua Però io sono vicino a Sasha Quindi deve essere vicino al verde Vado Stefani e Surri Sono andati Addio Addio No ti prego Non ci stirare Mamma ti prego Sembra Sasha con l'arancia la mattina Stiamo anche il mio fidanzato Ti amo amore Ti amo tanto Lo sto spingendo forte Basta giocare a Fortnite Basta Andiamo avanti Con i pony Quindi un pony qui Mettiamolo a stirare Presso quel pony Presso il pony E l'altro qui Ma chi è che ti ha consigliato quello di Lui aveva Io un po' che non lo vedo Ma si chiama tipo Rainbow Si Alfredo No si chiama Rainbow Warrior Aspetta Stavo per dire Rainbow Lash Invece è Rainbow Dash Però c'ero dai Stirati pony Stirati Mi ha cambiato espressione Hai visto Non è vero L'arcobaleno perché io sono una tipa molto colorata Molto arcobalenosa Molto felice Molto happy Guarda Andre E anche l'arcobaleno è andato Ora Pow Mi sono bruciata Intanto stiriamo anche il cocomero E la fragola Guardate che un po' da cattiveria ci dà pesante su quel cocomero Lo vuole tutto per sé quel cocomero E ora anche la fragola un po' più al centro Vuoi farti qualcosa con le fragole prima Dopo le mangiamo Allora abbiamo davanti Dietro E ora andiamo con le maniche Con che stile le facciamo? Belle Ma dai La mia giacca la devo metterta all'estate Questa manica Andre ho deciso di metterci la corona con una stella Perché sono io Tu sei la corona o la stella? Tutte e due Vado Mi hai sacrificato il mio sale Si e fai vedere che ho già tirato sulle maniche Perché io lo uso con le maniche tirate su Ah no perché ci sono 40 gradi in stanza E' già caldo lo stanza? No non per quello Con la stella Io vorrei farvi notare che Sabrina è in canotta Possete solo voi immaginare che gradazione ci sia in questa stanza Prima manica fatta Nell'altra manica ci mettiamo star e le stelle Go Tu lo sai già cosa ci starebbe bene lì vero? Si un dado Esatto Ma non ci faccio dado star Dai cerchiamo il dado Non c'è un dado Non c'è Ovviamente non può mancare cialemotto Oh finalmente Lo mettiamo nel taschino cialemotto Qua sarebbe cialemotta però perché c'ha un fiocchettino rosa Perché? Eh non lo so però in realtà non è che il rosa è il colore delle bambine E l'azzurro il maschio Cioè che stereotipo l'ha deciso? Ma l'hai appena detto tu? No in generale in Italia è scusa sta roba però in realtà non è vero Non ti puoi contraddire in un secondo incredibile Incredibile E di qua la zampa di Zack Guarda com'è pelice È pelice guarda la zampa di Zack Tra due uno Bam Bam E' dato il cinque alla zampa? Si Poi in realtà mi piacerebbe mettere il cactus e qualche altra toppa guardatele qua Però dovete consigliarmi voi dove Quindi guardate bene qui Preparate il vostro consiglio Andrew sta finendo di tossire Scusa E ora sono pronta a fare la modella Siete pronti? Vediamo com'è uscita super strabella la mia giacca Allora il davanti Aspettate che vi faccio proprio la sfilata e ve la spiego Ecco qui Qua vediamo le mie toppe davanti Poi abbiamo il fianco sinistro Il fianco destro Con Vegas che si sta attaccando ma adesso lo attacco bene Dove scappare E siete pronti? Com'è Andre? L'assa Abbiamo sbagliato Ah ecco Allora Vi piace la mia giacca? Siccome sono cose che mi piacciono molto Quindi aspetto i vostri consigli Prima di tutto aspetto di sapere il vostro parere Quindi se vi è piaciuta Tra poco vado a personalizzarne un'altra E come vi ho detto scoprirete per che cosa poi Io datemi qualche consiglio Mi piace Magari personalizzeremo una maglia mates per Sasha Che dite? Scrivetemi nei commenti Io vi mando un bacio E ci vediamo domani O un altro giorno Con il prossimo video Ora vado a stirare bene le mie toppe Voto Andre per te da 1 a 10? 6 Solo? Sì perché c'è Non hai messo sale Non l'hai messo lì sotto Guarda lo devo zoomare tantissimo Ma sta zitto con quella voce Va là Alert Fire 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 Fire